Siamo a fine gara, si è appena conclusa la finale di terzo e quarto posto e abbiamo qui la medaglia di bronzo, i team paesani, abbiamo uno dei mister più sereni, alleghi, non come Tonino Neri. Vogliamo ricordare Tonino Neri che è un po' arrabbiato ma ci sta perché sta andando nel recupero, invece a proposito di recupero, ieri avete perso l'occasione di stare addosso al team cappetto che attualmente rimane sempre primo per questa sconfitta vostra. Purtroppo sì, è la verità, il team cappetto è ancora un po' avanti, però ancora non è concluso il campionato e quindi volevo prima dire a tutte le squadre, vi faremo sapere di che poi si faranno le scopre. Questo è un proverbio cinense? Questo qua mi sembra di sì che è un proverbio cinense e comunque paura e soldi ma è un po'. D'accordo, grazie, domani devo offrire la granita a Mobiglia, l'hanno sentito tutti, testimoni tutti, quindi dov'è? Mobiglia? Mobiglia è andato, domani ti aspetta Antonio Greco per la granita. E la panna, e anche la panna.